I tre fratelli di Emanuele Luzzati C'erano tre fratelli che abitavano in tre castelli. Si chiamavano tutti Tommaso, ma si distinguevano per il naso. Tommasone dal naso arancione, Tommasetto dal naso violetto e Tommasino dal naso turchino. E siccome pensavano la stessa cosa, decisero un giorno di cercarsi una sposa. Naturalmente avevano pensato alla stessa moglie, cioè alla figlia del sultano delle Puglie. Il sultano è perplesso perché la figlia è una e loro son tre e risolve questo dilemma con uno stratagemma. La darò in moglie a quel fratello che le offrirà il dono più bello. Per battere la concorrenza, Tommasone va nel paese della scienza, dove trova un cannocchiale sorprendente, che ti permette di vedere tutta la gente. Tommasone ci infila dentro anche il nasone e per fare una prova vuol vedere Tommasetto dove si trova. Vede infatti in un bazar d'un paese d'oltremar suo fratello Tommasetto che si compra uno scendiletto fatto in Persia o in Turchia che possiede una magia. Gli dai indirizzo il paese, la via e poi lui ti porta dove vuoi. Invece Tommasino vorrebbe comprare un violino ma un signore gli dice date retta, è molto meglio una trombetta. Una trombetta, e perché? Prova a fare perepepe. Perepepe, perepepe, perepepe. È uno strumento fatato, basta far perepepe e guarisci chi è ammalato. I tre fratelli di ritorno si ritrovano un bel giorno e prima di presentarsi alla sposa si raccontano ogni cosa. Guardano dentro al cannocchiale e cosa vedono? La sposa! Che sta male! Guarirà! Morirà! Cosa si fa? Lo sa bene Tommasetto si monta sul tappeto si pensa all'indirizzo e via come un razzo in un baleno arrivano sulla soglia del castello del sultano della Puglia. Che colpo tremendo! La sposa sta morendo stanno tutti zitti e allora perché questi tre si mettono a fare perepepe? Perché al suon della trombetta la principessa guarisce e fa una piruetta. Siamo da capo i tre regali sono molto belli ma quale scegliere fra i tre fratelli? Per sciogliere il dilemma ha un'idea pazza perché non far scegliere lo sposo alla ragazza? Caro re io non sposo nessuno dei tre perché ho promesso il mio amore a Carmelo il pastore se me lo chiedevi prima evitavamo questa manfrina ci voleva così poco così dovettero far buon viso a cattivo gioco. I fratelli ormai rassegnati anche loro alle nozze sono invitati portarono in dono una cassetta con un binocolo un tappeto e una trombetta. i regali sono belli tutti e tre ma è già sul tappeto la figlia del re e vola col suo pastore verso il paese dell'amore. E i tre fratelli sono tornati nei loro castelli e pensano pensano la stessa cosa indovinate sta pensando a un'altra sposa.